Si chiamava Riley Rose Black, aveva solo 3 anni di età, purtroppo è morta chiusa dentro ad un'automobile mentre i genitori erano in casa a guardare una serie televisiva. Si chiamano Laura Black, 37 anni di età e il fidanzato Aaron Hill di 29 anni. La macchina è una Toyota Prado e i fatti si sono verificati nel Queensland. Ci troviamo in Australia, la temperatura registrata è stata di più di 34 gradi centigradi. La bimba purtroppo non è riuscita a sopravvivere per colpa di quella temperatura piuttosto forte, piuttosto elevata, piuttosto rovente. Riley è stata portata a Townsville University Hospital dopo essere stata vista a cacciato 6 giorni nel retro e il veicolo della madre. I medici hanno fatto un tutto per tutto ma non sono riusciti a salvare la vita. La bambina è morta. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Fatemi sapere cosa ne pensate. Riley Rose Black, che tu possa riposare in pace. Amen.